Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.